Anticipazioni Il Segreto, sabato 25 febbraio 2017 Ernando si accorgerà che tra Camila e Delia Smato sta nascendo una bellissima amicizia. In un luogo segreto, Severo e Candela e Lucas e Sol si uniranno in matrimonio. Franziska raggiungerà la chiesa dove avrebbe dovuto celebrarsi il doppio matrimonio, ma con rabbia, mista e stupore si accorgerà di essere stata ingannata. Carmelo cercherà di tranquillizzare il suo padrone, invitandolo a staccare un po' la spina e a partire al più presto per l'Italia insieme alla sua amata Candela. È lì che i due trascorreranno romanticamente la loro luna di miele. Inoltre, Leal tranquillizzerà Severo, dicendoli che si occuperà personalmente della questione. Sollevata da Don Scasas è riguardante l'approvvigionamento delle acque, utile all'irrigazione dei campi di proprietà di Santa Cruz. Acqua appunto bloccata da Hernando, che nel frattempo tenterà di mostrarsi più dolce verso Beatrice, ma tutti i suoi tentativi si riveleranno fallimentari. Grazie a tutti.